Io darò solo qualche spunto politico, per la seconda volta faccio parte della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea parlamentare della Nato, proprio il Ministro Cattaneo ci ha fatto un primo briefing della nuova legislatura qualche giorno fa. Ecco, in quella sede, fin da subito, fin dal primo impatto, si è capito che, erano cinque anni fa, c'è molto da fare come Italia. C'è molto da fare perché già allora ovviamente l'approccio dell'Alleanza guardava ad est, c'era una speranza per il sud, per quel cosiddetto fianco sud dell'Alleanza, data dal fatto che era stato aperto, istituzionalizzato l'app per il sud di Napoli. App per il sud che abbiamo visitato, abbiamo studiato, ovviamente va potenziato, ma non è più questo il problema. Il problema è che con l'ingresso della Finlandia si sposta ancora più a est, il baricentro dell'Alleanza, e ancora di più sarà con l'ingresso della Svezia. Quindi, come Italia si parlava di interesse nazionale nato, è evidente che il nostro interesse nazionale è orientare o riorientare l'attenzione dell'Alleanza verso sud, verso tutte quelle minacce che provengono da sud, nell'essico dell'Alleanza, quindi il terrorismo, il traffico di esseri umani, di armi, di droga, e tutto quello che ben conosciamo. Dobbiamo riuscire a coalizzarci con gli altri paesi del Mediterraneo, cosa anche a livello parlamentare per nulla facile, purtroppo. E quindi questo sarà un nostro impegno. Fin dalla prima riunione della nuova delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare, abbiamo poi riproposto, d'accordo con la Farnesina ovviamente, il tema del 2%. Qui ormai è un tabù, posso dirlo senza tema di smentita, perché addirittura abbiamo dovuto come delegazione italiana ritirare quell'emendamento che chiedeva appunto quello che ha ben spiegato il Ministro Cattaneo, ovvero quella gradualità e di tenere in considerazione lo sforzo enorme che l'Italia già fa come partecipazione alle missioni, anche proprio in termini di uomini. È un impegno davvero tra i primi paesi della Nato e però, ripeto, non c'è più spazio. Lo dico con molta sincerità e trasparenza, l'ha ripetuto anche oggi Stoltenberg, il 2% non è il tetto ma è la base e quindi se questo è il ragionamento è chiaro a tutti che dovremo correre ai ripari quanto prima per non restare, non fanalino di coda perché non lo siamo, ma per non venire discritti come fanalino di coda. Ecco, quindi Mediterraneo, l'Africa e mi riallaccio al tema dei partenariati perché una delle missioni più interessanti fatte insieme all'Assemblea Parlamentare della Nata è stata la visita dell'Unione Africana. L'ha per il Sud doveva servire, o dovrebbe servire, proprio a capire, affrontare alla radice i problemi dei popoli africani, degli stati africani per non arrivare più a gestire solo quello che succede quando poi si affacciano i problemi sul Mediterraneo stesso. Fin da quella prima visita ho purtroppo capito quanto poco apprezzata sia la Nata in Africa. Certo c'è la vicenda libica, certo ci sono tante chiavi di interpretazione, spiegazione, però questo vuol dire che dobbiamo lavorare sull'Africa tutti insieme per cambiare la percezione e un ruolo fondamentale ovviamente ce l'ha il nostro Paese. Abbiamo lasciato arrivare tutte le autrocrazie possibili dalla Russia alla Cina, fin sul quasi, no non fin quasi, sulle coste del Mediterraneo e sta succedendo sempre di più questo. Ecco quindi tutti noi ci siamo un po' addormentati come Occidente, è bello sentire che oggi l'Alleanza Atlantica è compatta, c'è una compattezza mai vista, però cosa pensa dell'Alleanza Atlantica la nostra popolazione? Questa secondo me dovrebbe essere la domanda che tutti noi ci poniamo e ben venga un convegno come questo appunto perché tutto ciò che facciamo riporta gli italiani a parlare, pensare alla Nato che essendo purtroppo sconosciuta, ai più, non viene compresa e non ne viene compresa la missione. Quindi l'appello a tutti è di parlarne il più possibile, di uscire dai circoli ristretti perché qui probabilmente siamo tutti d'accordo o quasi tutti d'accordo, ma usciti da qui in un qualsiasi mercato, quelli che noi deputati della Lega regolarmente frequentiamo, vi assicuro che le domande sull'utilità, la funzione e lo scopo della Nato sono tante. E quindi ancora Mediterraneo, vediamo cosa sta succedendo adesso in Kosovo, quindi con l'idea di Mediterraneo allargato, cosa succede intorno ad Israele, in Medio Oriente anche lì si affaccia la Cina con la mediazione raggiunta tra Iran e Arabia Saudita, il viaggio di Abbas a Pechino. Ecco, se noi osserviamo tutti questi elementi abbiamo come l'impressione nell'area Mediterranea di un arretramento dell'Occidente. Se l'Alleanza deve promuovere quei valori di democrazia, di libertà dell'Occidente, purtroppo invece di avanzare forse arretriamo, anche perché si auspicava la nascita di una nuova Alleanza Atlantica con Agui di Israele in seguito agli Porti di Abramo, ma questa prospettiva è sempre più complessa al momento. E non vorrei che questo ruolo di fornitore di sicurezza un giorno lo possa assumere la Cina, anche in quest'area. Nei Balcani già sappiamo di tutte le influenze che ci sono. Davvero, torniamo, ripartiamo, la mia proposta è ripartiamo dai valori che hanno fatto grande l'Alleanza Atlantica, spieghiamoli, spieghiamoli alla nostra gente, torniamo a essere orgogliosi di essere l'Occidente perché non lo siamo più e nel disorientamento di oggi ricostruiamo pian piano, a fronte di una compattezza politica dei nostri governi che c'è, però dobbiamo ricostruire un sentire comune, quel sentire che ha permesso all'Occidente di vincere quando si era orgogliosi di appartenere al mondo libero. Oggi non lo siamo più. E allora oggi non capiamo più l'importanza di occuparci di Indo-Pacifico, perché nell'Indo-Pacifico c'è questa piccola democrazia e ho avuto la fortuna di incontrare proprio sabato il ministro degli esteri di Taiwan e di parlare con lui della situazione di sicurezza e della democrazia di Taiwan. L'esempio più abusato oggi è quello della Crimea, di Cavour, ecco perché può essere importante dire agli alleati anche l'Italia si occupa di Taiwan come allora appunto fece Cavour, ma non è solo per questo, è proprio per riappropriarci di quei valori che possano far sì che alleati come Giappone, l'Australia e la Corea del Sud apprezzino il nostro intervento a difesa della libertà di navigazione che viene messa in discussione. Voi direte perché ci deve interessare come Nato, come Italia, come Occidente la libertà di navigazione nello stretto di Taiwan? Perché da lì passa una quantità significativa del commercio globale e quindi riguarda anche il nostro Paese che non dobbiamo scordare la seconda manifattura d'Europa e di quei semiconduttori prodotti a Taiwan ha bisogno quanto mai. Taiwan oggi arriva a produrre semiconduttori di alta tecnologia fino al 90% della produzione globale, al 60% generalmente parlando di semiconduttori. Ecco queste sono evidenze appunto di interesse nazionale difficili da spiegare ma il viaggio della Morosini in quell'area, della nostra nave Morosini per diplomazia navale è invece una mossa fondamentale del nostro Paese per riallacciare e intensificare le relazioni da Singapore alla Thailandia al Vietnam, i paesi che ha già toccato e fino a Giappone dove arriverà fra pochi giorni. Grazie.